Attraction Evomath. L'Attraction è un materassino che i carp ha studiato per mantenere al massimo e la tutela della carpa. Troviamo due lembi che servono per quando il pesce è molto agitato. Noi lo chiudiamo con dei velcri, delle presa strap. Questi manterranno appunto una notevole tutela del pesce. C'è una rete che serve per bagnare il pesce anche quando questo sarà molto agitato e all'interno è presente un materassino. Questo materassino è completamente in gomma piuma e una gomma piuma nata appunto per attutire eventualmente le testate del pesce in momenti appunto più concitati. È asportabile. Questo ci favorirà durante i momenti in cui saremo in acqua. In acqua col pesce faremo le foto. Sul suo fondo è presente una rete. Questa rete favorirà l'entrata dell'acqua all'interno quando saremo appunto in acqua. Questo per consentire al pesce di avere il miglior agio possibile e a noi di utilizzare magari qualche minuto in più per averlo scatto migliore. Questo ovviamente solo quando saremo in acqua. Sulla parte posteriore è presente questo lembo qua. Questo serve per appoggiare le ginocchia durante i momenti di foto. Come in questo caso qua dove sono presenti molti sassi potrebbe essere assolutamente un beneficio. Sui lati sono presenti tasche dove potremo mettere eventualmente delle corde oppure le sacche di mantenimento oppure ancora meglio il disinfettante sempre da portare con noi a pesca. Grazie a tutti.